da oggi c'è una grande novità vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di qui studio a voi stadio abbigliamento uomo donna e bambino arredo casa e accessori esclusivi tutti con i colori della tua squadra del cuore per te o per un regalo originale non perderteli abbiamo citato i giocatori del belgio tripletta di lukaku contro la svezia con la maglia del belgio lui ha mandato un messaggio zittendo un po il tifosi penso della nazionale perché comunque dopo l'eliminazione anche il belgio insomma non è che l'ultimo mondiale l'abbia fatto particolarmente bene l'avranno un po criticato lui si mangiato 4 gol la partita decisiva lui era corresponsabile anche però è vero che era anche infortunato è arrivato in una situazione non avrebbe nemmeno dovuto giocare perché carrasco aveva detto speriamo di recuperarlo per la fase eliminazione aveva dichiarato carrasco durante i mondiali quindi è stato buttato dentro proprio perché era la partita della disperazione però ciò non toglie che è un grosso punto di domanda per l'inter questo giocatore nel senso che l'inter lo prende pensando sostanzialmente quest'estate rimetto lukaku nel nostro attacco e divento la squadra che potenzialmente può vincere lo scudetto si è fatto male si è fatto male ad agosto per uno che ha una stazza fisica come lui riprenderci è stato un problema probabilmente c'è stata una ricaduta perché hanno forzato anche lui magari voleva andare al mondiale ha forzato un po' i tempi e poi ne ha pagato le conseguenze sia con l'inter che con la nazionale secondo me è un giocatore che va recuperato sta recuperando perché io lo vedo al vivo e ogni volta lo vedo tu hai ottimismo su Lukaku? sì sì nettamente io lo vedo sempre lento a salire di condizione però quando c'è Lukaku la palla sta su lui si mette così la palla la tiene lì fanno tempo a salire con Dzeko per l'amor di Dio è un grande giocatore però ormai lui scatta e gli altri corrono Lukaku ha fatto qualificare l'Inter il gol più pesante se Dzeko fosse Dzeko di inizio anno probabilmente non ci sarebbe non discuto però Dzeko anche l'anno scorso questo momento è in fase di calo di stanchezza anche l'anno scorso ha fatto così sì lui ha sempre quel tipo di percorso quindi attualmente ebbene gli anni si fanno sentire anche per Dzeko farlo giocare al posto di Lukaku adesso che Lukaku ma questo non lo dico da stasera lo dico già da un mese Lukaku si vede che sta riprendendo l'ultima partita proprio... ma con Inzaghi può funzionare? il gioco di Inzaghi è un gioco comunque più di fraseggio a palla a terra più armonico dove gli attaccanti devono fare dei movimenti diversi dove Lukaku probabilmente rispetto a come giocava l'Inter di Conte 20 metri indietro rispetto a come ma ricentro a quello che utilizza Inzaghi una squadra che giocava più sulle ripartenze in verticale come ha giocato il mezzo ieri? come giocava prima Lukaku o come... lui ha fatto dei tre gol io ho visto la partita due li ha fatti sulla linea bisogna anche dire che fa delle azioni travolgenti i compagni qui si trova a porta sguarnita era lì però diciamo che non è che abbia fatto questa partita trascendentale poi fa tre gol e tre gol nessuno gli ritoglie detto questo ha cambiato un po' modo io non l'ho vista però non ha giocato 4-2-3-1 come eravamo abituati ma ha giocato 3-4-1-2 ieri il Belgio con De Bruyne a fare un po' da pendoli i due attaccanti quindi c'erano un po' gli esterni se vogliamo come giocava un po' anche l'Inter di Conte prima di Inzaghi infatti i due gol che arrivano sono da repercussione degli esterni lui chiude di fatto l'azione poi si fa trovare lì quindi è puntuale 3-4-1-2 vuol dire quasi 3-5-2 un po' più offensivo perché c'è il trequartista peggio ancora per Lukaku però in questo caso De Bruyne che non è proprio il trequartista classico svaria eccetera non è il modulo no no è l'atteggiamento comunque i gol arrivano delle grandissime azioni dell'esterno ne parlavamo oggi insomma di questo giocatore che gioca all'Herta Berdino molto interessante dove effettivamente fa delle giocate strepitose e serve dei cioccolatini poi Lukaku è lì in area di rigore quindi per carità però è di fatto cioè se si fosse stato Righi sarebbe stato ma segnava chiunque anche se c'eravamo noi perché comunque salta il portiere e tanti non si trovano al punto giusto al momento giusto tanti giocatori volevo provocarti no 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 quando si parla quando si parla seriamente io riesco a parlare seriamente e ripeto Lukaku per me quella qualità ce l'ha cioè di essere di capire dove va la palla diciamo così sicuramente è uno che deve giocare nell'Inter che poi tu mi hai detto Inzaghi il gioco Inzaghi io l'ho sempre difeso l'ho sempre protetto però nove partite allenatore dell'Inter su 27 non può perdere avranno colpa i giocatori al 60% che cosa però qualche partita l'hai persa anche a te mi ricordo quella di Udine che ha combinato di quelle nefandezze e quei cambi di modulo difensivi ha fatto su di quelle cose dico quella e basta ha cambiato una volta modulo all'interno della stessa partita le sostituzioni dei due giocatori ammonichi alla mezz'ora troppe cose troppi errori che alla fine per rimediare deve arrivare terzo secondo terzo e vincere le due coppe allora rimedia vincere le due coppe deve vincere la Champions League se vuole rimanere all'Inter sì ah cioè tu andresti in zaghi e dici caro Simone allora o vinci la Champions oppure quarto posto adesso traduco Gianni ho capito ma avete detto prima uno può uscire ai rigori quindi arriva in finale sbagliano i rigori perde e va a casa deve arrivare almeno in finale deve arrivare in finale vabbè almeno ho trattato un po' c'è Claudio ma deve arrivare proprio da un allenatore come te non collega no perché io spesso così come deve arrivare anche secondo deve dare un segnale come la passarella dei pirati deve dare un segnale di continuità oggi l'Inter giustamente Gianni citava nove sconfitte e 27 partite cioè ogni tre partite l'Inter ne perde una non può ottenere questa media perché anche se arriva secondo perché vanno tutte piano ma chiude con 12 sconfitte queste nove ormai le ha perso non è adesso deve dare un segnale che deve fare un filotto però io io in questo momento qua mi metto nei panni del direttore generale dell'Inter io adesso avrei la mosca al naso Nagelsmann è stato mandato via che strano che ti piaccia Nagelsmann no 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 ma no per il gioco sono saltato dalla sedia eh sì siamo qui che litighiamo sempre per un discorso di moduli di caccia nagelsmann nagelsmann lascialo a me anche se sono benissimo che non arriverà mai la Juve l'italiano non è facile l'allenatore per dire le stupidaggini che dicono gli allenatori in televisione in 15 giorni le impara ah sì c'è un libretto opposto comunque Claudio impara queste 20 frasi c'è solo uno due che sanno tenere un po' sulla conferenza stampa Murigno Murigno e Allegri ah penso mi dicessi Conte due cose veloci Conte insulta i giocatori quando non vince la prima è su Lukaku cioè Lukaku tanto criticato Lukaku io in questo senso sono dalla parte della società Inter perché rimango convinto che le cose vandano analizzate vandano capite nel momento cioè l'Inter in cui va a prendere Lukaku ha tutte le ragioni di questo mondo poi se col senno di poi fossimo bravi a capire che cosa accadrà nel futuro saremmo infallibili saremmo gli infallibili Lukaku era un giocatore però c'erano due io capisco opportunità enorme l'hai venduto a 120 te lo ributtano qua praticamente era un giocatore che pure e pensi che nella serie A sia dominante però c'erano un paio di questioni secondo me che dovevano essere considerate una che era riduce da una stagione deludente però si era sempre fatto il conto che quando arrivano dalla Premier nel campionato italiano perché è un campionato di tecniche però c'è una cosa da dire Lukaku al di là poi delle simpatie della stima o meno di Gianni nei confronti di Antonio Conte le migliori stagioni della sua carriera le ha avute con Antonio Conte non è mai stato così leader e determinante nelle proprie squadre né a Westbro Michalbion né all'Everton né al Manchester United dove addirittura il secondo anno faceva pure panchina e neppure al Chelsea quindi evidentemente bisogna capire se quel Lukaku che noi abbiamo visto in Italia quell'anno e mezzo che è stato overperformante è stato frutto di tutta una serie di cose insomma l'alchimia che si era creata all'interno della squadra la squadra che comunque andava molto bene tutta una serie di fattori che forse gli hanno dato quel quid in più perché poi quando è tornato al di là dei problemi fisici non abbiamo più rivisto ma anche al Chelsea quel tipo di giocatore così dominante così devastante in campo aperto così trascinatore non lo era prima non lo è stato dopo quindi bisogna anche poi capire fattivamente che tipo di Lukaku è io parlavo in questi giorni con grande attaccante come Spillo Altobelli che mi diceva miglior marcatore insomma dopo meazza però diciamo di quelle dell'era moderna post-guerre nella storia dell'Inter lui mi diceva Lukaku è un buon giocatore che con Conte quell'Inter lì per tutta una serie di cose ha avuto un rendimento devastante ma non è secondo Spillo Altobelli un top player tanto che adesso il Lukaku che stiamo vedendo oggi ovviamente non è quel Lukaku lì ma secondo lui è più vero questo Lukaku che è simile a quello inglese quindi qualche gol importante l'ha fatto citavate Interporto però sicuramente non è quell'attaccante da 30 gol devastante determinante leader carismatico eccetera che è stato in quell'anno e mezzo dove si però è una riflessione che va a fare cioè Conte che gli ha dato i superpoteri insomma Conte l'ha messo al centro come mai nessun altro allenatore ha fatto nei loro progetti perché ricordiamo che Conte lo vuole fortemente l'Inter fa fuori Mauro Riccardi che comunque era un'istituzione per mettere dentro Romero Lukaku quindi succedono delle cose per cui comunque lui arriva con un'investitura molto importante con una squadra poi un allenatore che costruisce la squadra su di lui e lo porta comunque a rendere come non mai al Chelsea lui arriva con lo stesso carico di aspettative che spendono 115 milioni è la squadra che ha vinto la Champions quindi vinci la Champions metto dentro Lukaku spendendo quei soldi ma aspetta un determinato impatto che lui non ha con Tuchel prima e poi ovviamente con il successore solo che ora per l'Inter scatta il dilemma cosa faccio quest'estate con Lukaku perché intanto posso lasciarlo andare sì allora lui torna sicuramente al Chelsea l'Inter è stata chiara con Lukaku il suo agente l'avvocato Sebastiano Ledur non è fattibile spendere 20 milioni tra prestito e stipendio per avere Lukaku che non è di tua proprietà perché tu spendi 20 milioni quest'anno la Juve lo fece con Morata sì ma non è stata una grande operazione no no io sono d'accordo l'ho sempre criticata però dico ci sono club che fanno questa cosa a Juve spese 30 milioni per avere un giocatore che dopo due anni non era suo anzi paradossalmente la cosa strana è stata che più il tempo passava più si pensava fosse scontato il fatto che lo tenesse perché tu hai messo talmente tanti soldi nei prestiti che a quel punto lì valeva la pena riscattarlo e quindi Marotta è stato e ausilio sono stati chiari con la gente del giocatore con il stesso Lukaku se voi trovate un modo di tornare tu e restare però a queste condizioni non si può fare quale può essere la strada beh innanzitutto non pagare 8 milioni di prestito quindi o prestito gratuito o semi gratuito un conto è 1 milione o 2 di prestito un conto sono 8 quindi facciamo che da 8 diventa 1 adesso già 7 milioni in meno ma il Chelsea questo potrebbe accettarlo nell'idea di l'ho pagato devo ammortare il Chelsea beati loro avendo speso quasi oltre 5 miliardi di euro il proprietario solo per acquistare il club avendo speso 600 milioni di euro nelle prime due sessioni di mercato non guarda minus valenze eccetera se no al discorso non si porrebbe neanche il Chelsea ovviamente cercherà di capire se si può monetizzare però se il giocatore si mette di traverso e dice io voglio tornare in Italia voglio andare solo all'Inter loro magari lo accontentano pure è da capire quanto lo accontentano perché non si può neanche pensare che al Chelsea abbiamo tutti l'anello a naso e quindi vengano hai capito addirittura tra virgolette sfruttati anche per non dare un segnale del tipo tutti i giocatori dopo dicono io voglio andare là e tu mi devi mandare quindi qual è il discorso il discorso è se lui riesce in qualche modo una parte dello stipendio a farsela pagare attraverso un incentivo all'esodo dal Chelsea il Chelsea abbassa le pretese l'Inter magari ci riflette anche per fare un esempio quest'anno il pacchetto Luca che ha costato 20 milioni se costa 10 che non sono pochi ci pensano se non prendiamo Lukaku invece di questi 20 milioni quanti ne devi spendere per dare il contratto ipotesi a Turam beh Turam lo prendi a zero c'è il decreto crescita gli dai 5 milioni di stipendio sono 7 e mezzo lordi gli fai 5 anni di contratto quindi è un'operazione che complessivamente ti costa 5,5,25 col decreto crescita è un'operazione da 35 milioni però è tuo è tuo potenzialmente è turam 4 anni in mezzo è più ottenibile chiaro ma poi è tuo il ragionamento che fa l'Inter oltre a spendere i soldi per Lukaku non è mio perché un conto se tu dici io faccio questo sacrificio però poi è mio quindi un domani eventualmente è di mia proprietà ma arriva un'offerta lo rivendono è meglio Turam di Lukaku non so questo non dobbiamo dare risposta io però questa è una domanda che secondo me è al fulcro del mercato dell'Inter cioè io oggi scottato da una stagione di Lukaku dove ha avuto infortuni scarsa forma fisica e un rendimento basso mi troverò a fare questa domanda come dirigente cioè se io non tengo Lukaku prendo uno che è meglio di Lukaku spendo più di quello che mi costerebbe Lukaku però tu devi fare un ragionamento 360 gradi se fai il dirigente tecnico come giustamente farà domanda anche economico farà domanda Gianni che da allenatore se fosse nel summit giustamente l'allenatore pensa al discorso tecnico e basta devi fare un discorso anche patrimoniale se io metto dentro Turam che ha 25 anni nazionale francese vice campione del mondo tra i primi da fantasma però perché il mondiale ho capito ha fatto meglio con la buona se era se si mangia il gol in finale quindi poi non so quanto meglio comunque vado a dire i francesi se cioè con Marcus Turam no non sto dicendo non sto dicendo questo sto dicendo che però crei un valore patrimoniale io dirigente ho Marcus Turam comunque che è mio se dopo è mio sì sì l'anno prossimo Marcus Turam ma anche Correa anche Correa è tu esatto anche Mkhitaryan ci sono acquisti azzeccati sbagliati la mia domanda è questa è meglio questo o meglio quell'altro magari qualcuno mi dice è meglio Turam e allora io mi chiedo ma di solito in Germania quando uno è bravo bravo da qualsiasi squadra va al Bayern il Bayern quest'anno è senza il centraval esatto e non ha preso Turam e allora io mi chiedo c'è anche il Bayern tra i club interessati a Turam e allora va lì se è bravo bravo va lì e adesso il Bayern è cambiato allenatore però ma al Bayern l'allenatore non è che decide cosa comprare però Tuchel vuole avere un po' è particolare non è proprio uno così mansueto lui ha detto io arrivo però voglio anche avere un po' di voce in capitolo poi è chiaro che il Bayern può prendere qualcuno di più importante ti faccio un esempio se tu puoi andare a prendere e ce ne sono anche attaccanti più importanti magari lo prendi fermo restando che il Bayern comunque ha un attaccante che noi sottovalutiamo come Chupomuting che è stato scartato dal PSG ma anche comunque alla fine gli allenatori fanno giocare e fa gol pesanti anche in Champions League si è vendicato del PSG ma al Bayern e a Nussanet c'è Oliver Kahn come direttore no? Salia Mizzi Salia Mizzi Oliver Kahn ha parlato oggi non Salia Mizzi quando parlano questi personaggi qua io me lo ricordo Oliver Kahn quando era in campo non è gente che si arriva a Tuchel che è appena stato esonerato gli dice dai fai tutto te no gli dice vieni qua parliamo insieme e se a te va bene quello là e a noi non va bene si prende quello che va bene Tuchel è uno spessore diverso rispetto a Nagelsmann Nagelsmann è un attore giovane di 34 anni che aveva l'occasione della vita che loro comunque hanno pagato 25 milioni la clausola per sta parola all'Ipsia quindi aveva un po' meno di voce in capito Tuchel è uno che ha vinto la Champions è uno che ha fatto una finale col Paris Saint Germain è uno che arriva con un pedigree diverso e quindi può avere un po' più di forza ti ha stupito eh sì volevo chiederlo io dico Nicolò non mi ha stupito perché avevo anche scritto chi mi segue lo sa da tempo che Tuchel era promesso sposo del Bayern ma ha stupito la tempistica esatto la vigilia della Champions io pensavo che l'avvicinamento sarebbe stato fino in stagione però poi parlando anche con intermediari vicino al Bayern Monaco eccetera mi hanno spiegato che noi poi non guardiamo tanto la Bundesliga ma il Bayern Monaco un mese e mezzo fa aveva dieci punti di vantaggio sul Dortmund adesso è a meno uno dal Borussia il primo aprile c'è lo scontro diretto in casa del Borussia se perde quello è perso la Bundesliga di fatto quindi loro hanno detto dobbiamo cambiare perché la squadra in questo momento è persa non risponde più ai comandi dell'allenatore qualche frizione nello spogliatoio c'è l'allenatore era quello che avrebbe dovuto fare l'Inter con Simone Inzaghi quello che probabilmente i club italiani nel momento di difficoltà avevano dovuto fare sarebbero i soldi quando un allenatore per farlo a me stupisce sempre quando tu mi dici che devono esonerarli in corsa perché a me è sempre sembrato una roba contro vedi Inzaghi Inzaghi ripeto l'ho sempre difeso però quando tu perdi troppe partite si sente il sentore che non hai più in mano la squadra come ha detto adesso lui per quanto riguarda Nugelsmann ragazzi c'è solo un sistema l'allenatore deve andare Allora adesso parliamo dell'allenatore dell'Inter e di Lukaku perché potrebbero essere vincolate le due cose dopo la pubblicità Bentornati bentornati allora adesso andiamo dritti sull'Inter del futuro prima qualche messaggio Ilenia da casa Grande Sandrea no Grande Sandrea abbiamo detto di non leggere dobbiamo eliminarlo cancelliamo Grande Sandrea ha perfettamente ragione su Inzaghi ciao Bruno da Bergamo ma Bruno uno capisce di caso certo poi ancora il Celsi ha tutta la convenienza a trovare una società che provi al massimo a risuscitare risuscitarglielo ce lo scrive Sandro perché comunque ha già fatto quest'anno ha approvato quest'anno loro in realtà sperano di trovare qualcuno che se lo compri però chiaramente questo è difficile perché l'anno di Lukaku è deficitario appena 4 gol quest'anno anche il Messia ha risuscitato una volta sola quindi insomma la vedo un po' dura ecco questo lo dici te perché può farlo che voi non sapete niente poi poi un ultimo messaggio magari può risponderci Nicolò ma il Celsi non interessa Dumfries scambia la pari con Lukaku e tutti contenti ce lo scrive Max no abbiamo bisogno dei soldi il Celsi intanto ha preso malo gusto come terzino destro 25 milioni più 5 di bonus 2003 molto talentuoso del Lione quindi credo in questo momento quanto l'ha pagato? 25 più 5 totale 30 e quindi in questo momento non è più una priorità Dumfries nel frattempo come abbiamo anticipato ieri ha cambiato agente ha rotto il rapporto con Raffaella Pimenta ha scelto una nuova agenzia il Vassaman Group vediamo che cosa succederà perché quando c'è un cambio di agente ci sono anche dei cambi di situazione che possono portare o magari a una permanenza o a un cambio di prospettiva sul mercato perché Raffaella Pimenta lavorava su determinati fronti adesso si lavorerà su altri certamente lui sperava di fare un salto importante perché Raffaella Pimenta aveva prospettato di andare in Premier League ma in realtà non sono arrivate offerte è un giocatore che vedendolo sembra trasformato psicologicamente in negativo nel mio loro lipomo farebbe la riserva all'Uraschi o a Giudici e non può prendere l'Uraschi possiamo chiamare possiamo chiamare giudici che magari segnaiamo ad ausilio perché nel caso se no si no beh veramente fa una fatica non riesco io l'anno scorso lo vedevo dava l'impressione di essere bravo a fare la fascia in copertura rientrava giusto ha fatto una grande stagione l'anno scorso sembra un giocatore che ha staccato la spina mentale no hai trovato le parole giuste sembra un giocatore fuori da ogni interesse probabilmente mentalmente lui si vedeva dopo il mondiale andare altrove aveva avuto delle sirene la stessa Inter comunque non ha sempre messo in vendita tanto è vero che nel periodo della fase di mercato è stato stravarcato da Darmian che poi ha fatto molto bene tanto che Darmian si è conquistato e meritato il rinnovo del contratto poi anche l'Inter pensava di incassare 40 milioni non è mai arrivato un'offerta del genere neanche però questo mi accende un déjà vu cioè non è che l'Inter pensa sempre di guadagnare di più e poi alla fine alla Skriniar tanto per parlarci chiaro no se gli offrivano 30 lo dava via a gennaio non sono poi arrivate neanche offerte da 30 non puoi andare a cercare un giocatore in queste condizioni o questo lo chiami da parte adesso non so quanto contratto abbia ancora avrà due anni e lui aveva firmato quattro anni quindi sì ancora un po' ha due anni in contratto o lo chiami e gli dici ascolta ragazzo hai voglia di giocare a calcio hai voglia di diventare più ricco di quello che sei lo allunghiamo di due anni stai qua all'Inter mettiti in testa che noi dobbiamo fare bene e che tu devi fare bene se poi fai bene vedrai che ti vedono e poi andare in Premier League però riparti da zero e riaccendi ma infatti per quello dicevo adesso col cambio di agente anche l'Inter stessa si siederà poi nelle prossime settimane con gli esponenti del Wasserman Group per capire poi 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 possono essere strategie perché cambia tutto mentre la Pimentera pensava di spostarlo è stata anche due settimane in Inghilterra ma non ha portato delle offerte vere e anche il giocatore è entrato in quelle ordine di idee adesso devi capire è raccontata così ma che lui voglia un procuratore che lo faccia trasferire no si ma se ti chiede il West End allora puoi andare a Bologna è la stessa cosa il West End non vincerà mai niente come non vincerà mai niente il Bologna il ragionamento di Gianni è un conto sono le big quelli a cui lui aspirava che però non si sono fatte avanti perché poi il Chelsea ha preso malo gusto il Tottenham ha preso Pedro Porro l'Arsenal ci sta provando per Freshnay dal 2004 del Valladolid Newcastle non si è fatto avanti si parlava dello United ma poi alla fine lo United non ha mai palesato un'offerta vera e quindi alla fine gira che tiri e gira le squadre sono quelle ecco perché non va escluso anche che magari sedendosi con i nuovi rappresentanti i rappresentanti dicano anche noi ripartiamo da zero cerchiamo di capire anche con l'Inter cosa vuole fare l'Inter l'Inter è chiaro che pensava di monetizzare però lui il giocatore l'anno scorso aveva fatto molto bene aveva fatto un buon mondiale dopo il mondiale non ha ripetuto le prestazioni dell'anno scorso sta facendo male è chiaro che oggi come lo vediamo noi lo vedono in tutta Europa è difficile anche incassare 25-30 milioni allora se devi incassare dico per dire 15 magari dici me lo tengo li allungo il contratto cerco di resettare tutto di mentalizzarlo di nuovo sul discorso nera azzurro e di ripartire insieme l'abbiamo visti tanti di casi del genere Prof Pisani ricorderà estate 2004 Davide Treseguet era promesso suolo del Barcellona poi arriva Fabio Capello ci parla dice Amoggi e Giraudo scusate ma Treseguet è più forte di tutti teniamo li rinnovano il contratto e Treseguet addirittura poi andò anche in serie B con la Juve ha fatto il record di gol cioè dipende da situazione la situazione il mercato è bello perché poi comunque cambia in base anche a le storie diciamo di svolte clamorose Gliding doors fa citare un film visto che Claudio è un grande appassionato è anche il prof cittadino uno simbolo dunfris è continuo nella sua discontinuità bene effettivamente qua torniamo un po' alla questione posta magari su giocatori che hanno avuto cioè quel picco che abbiamo visto di dunfris tra gol assi sgroppate travolgenti è stato un'illusione o le rivedremo? no ecco non bisogna confondere queste cose qua perché quando uno fa un'annata buona vuol dire che è capace e quindi ha dimostrato di saper giocare a calcio se poi va a regredire è perché è successo qualcosa nella sua mente perché il calcio scusatemi il modo di dire ma per me il calcio se uno sa giocarlo appena appena è questione di testa se uno ha voglia stimoli ed è capace lo sport la testa fa tanto posso fare una domanda tecnica al mister? prego tu dunfris dove lo collochi in una hit parade in una classifica dei terzini destri dei laterali destri di serie A la serie A attuale? sì lo colloco dietro a Florenzi lo colloco ma non lo colloco di Lorenzo è meglio di Lorenzo è meglio vorrei ben dire quindi due poi Calabria è meglio o peggio di Dunfris? no è meglio tre Danilo è meglio o peggio di Dunfris? da Danilo quattro poi no no è per fare Lazzari a me piace molto 5 Zappacosta a me piace più di Dunfris 5 parliamo di questo momento parliamo di questo momento in questo momento anche come si chiama? Ezi Bue ed è Udinese? no il tuo Gianni il tuo terzino della tua squadra Louraschi Louraschi meglio di Dunfris Louraschi credo che adesso ha 50 anni Pesani meglio di Dunfris in questo momento qua adesso io vi faccio un'equazione semplicissima così chiarisco Jonathan meglio di Dunfris adesso non esageriamo non esageriamo beh in questo momento qua ci può però Dunfris l'anno scorso ha fatto un grande campionato io lo avrei riconfermato avrei fatto tutto quello che ha fatto l'Inter però invece no vedi dovevi venderlo lì e beh ma non ci è stata offerta non sono arrivate le offerte non sono arrivate le offerte lui adesso gioca perché al suo posto fino adesso ha giocato Darmian in questo momento qua l'Inter nei tre centrali è un po' sbilenca e quindi Inzaghi adopera spesso Darmian in quel ruolo lì nei tre e quindi tra l'altro adesso dobbiamo fare chiarezza su Skriniar anche su Skriniar eh sì beh Skriniar l'errore è stato a monte quindi non voglio neanche parlarne cioè dopo ne parlo se tu lo vuoi però Darmian è lui il titolare sulla destra Darmian è meglio di Dunfris quindi attualmente sì gioca Dunfris perché Darmian va a fare un altro ruolo se Nicola della Cremonese è meglio di Dunfris dai adesso non esageriamo però io a un certo punto ci sono state partite che era meglio che giocava D'Ambrosio eh sì perché se la testa non c'è è un pericolo comunque D'Ambrosio invece che essere un più ti gioca contro D'Ambrosio è stato l'unico cinque giorni fa a dire? no che si è arrabbiato perché hai perso in casa con la Juve l'unico che ha reagito che ha fatto rinnova D'Ambrosio con l'Inter stanno vautando lui ha anche un altro paio di composte di altri club quindi devo un attimo capire se trovano una quadra o meno si rivedranno dopo Pasqua guarda solo andare via che è l'unico che ti fa capire che cosa vuol dire stare al mondo ti dice guarda che io sono D'Ambrosio ho giocato nel Torino nell'Inter e ho in banca 20 milioni potrei smettervi di giocare e andare a giocare la domenica mattina con gli amici se si sta qua ha guadagnato un po' meno tu sei stato un po' un po' generoso con i guadagni D'Ambrosio conta tutto tra premi tutto poi saranno 15 sono sempre tanti non facciamo i conti lui è il commercialista di D'Ambrosio quindi ci tiene che sia preciso però D'Ambrosio può dire agli altri compagni di squadra io sono uno che ha 15 milioni in banca ok? fai 10 fai 10 e ho comprato la casa a mio padre a mio fratello se io sono qua è perché ho voglia ancora di stare qua e giocare a calcio e Dunfries dice ma io volevo andare al Chelsea si ma se sei quando io ho avuto un giocatore che è arrivato col procuratore e che aveva le scarpe marcate e arrivava da due categorie più sopra a un certo punto faceva il figo io gli ho detto scusa un po' da che categorie arrivi te da là arrivo da là e perché fai così perché io mi sento bravo ma se eri così bravo gli ho detto perché ti hanno mandato qua vuol dire che hai saltato due categorie indietro vuol dire che hanno detto che non sei capace se tu ti comporti così con me non giochi mai qua scendi di altre due si non giochi mai come è andata a finire la stagione prego come è andata a finire la stagione che non ha giocato vuoi vedere come può essere l'undici dell'Inter l'anno prossimo dopo la pubblicità sconti e ci la stagione è andata a finire la stagione